Non manca ancora un po' di gente, secondo me sono rimasti fra un'abistecchialata. Ciao a tutti, mi trovo al meeting, la chiave armonica dell'universo. Ci sono un sacco di lusterie, trattorie, immagino che qualcuno si sia soffermato. Sta per iniziare la seconda parte della conferenza. Sì, adesso stanno rientrando un po' alla volta, siamo in perfetto orario. Non si possono fare riprese perché c'è il copyright, per cui inquadro la platea. È ancora un po' mezza vuota perché stanno tutti a mangiare. Stanno tornando tutti dal pranzo e vediamo un po'. Mi faccio un po' un giro. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, ben trovati. Ieri sono stata al convegno dove erano intitolato la chiave armonica dell'universo, nuovi paradigmi scientifici e antiche pratiche spirituali, con Rupert Sheldrake e Corrado Malanga e Stefano Bollani che suonava il pianoforte, accompagnava l'evento diciamo. Come regole di spazio interiore non si potevano fare video, non si potevano fare riprese video per poterle postare su YouTube piuttosto che Facebook, per cui ci hanno vietato sostanzialmente. Già tramite mail ci hanno scritto che partecipanti non potevano fare le riprese e né ovviamente, se fossero state fatte dei piccoli video, non utilizzarli per il canale, cioè per metterli in rete sostanzialmente. Quindi ho fatto qualche piccolo video per me per studiare, perché loro posteranno il video della conferenza se non fra un mese, fra due mesi, insomma in base a quanto tempo ci mette l'operatore a fare il montaggio. Siccome la mia necessità è di studiare quello che ha detto Malanga ieri, non è che possa aspettare dei mesi, no? Per cui quando parlava di cose proprio che volevo approfondire e capire meglio tornando a casa, ho fatto delle piccole riprese per me stessa. Quindi sono dei piccoli sketch, dei video brevi dove magari Corrado Malanga parlando dell'universo ragiona di alcune cose e l'ho catturato questi discorsi. Mi sono anche catturata una cosa che riguardava il toroide. E allora, cosa volevo dire? Siccome mi sono messa a studiare il toroide, per l'appunto ieri Corrado Malanga ce ne ha parlato nuovamente, oltre che a queste dispense di cui vi parlavo che si trovano su Corrado Malanga Experience, cosa volevo dire? Allora, se andiamo sul sito di Corrado Malanga Experience, vediamo se si carica, ecco, si è caricato. Se scendiamo giù, vediamo gli ultimi articoli e poi leggi altri articoli. Se clicchiamo leggi altri articoli, ci sono postati tutti i lavori sostanzialmente, se non tutti, tutti quelli che è riuscito ad inserire nel sito. E quindi è una, diciamo che è molto corposo questa, quest'insieme di materiali, quindi è molto, è una fonte molto interessante che io consiglio di andare, perché è interessato come me ai lavori di Corrado Malanga, insomma, consiglio di aprirsi, cioè per aprirsi il file, in questo caso, Torus Aspettico e Torroidali, bisogna cliccare sul titolo, perché c'è una piccola premessa che non è cliccabile, mentre il titolo sì e si apre proprio il pdf. E vediamo quanto tempo ci mette ad aprirlo, con la mia magnifica connessione. E allora, si è aperta l'immagine, il file, il documento è di 46 pagine, Torus Aspettico e Torroidali dell'universo virtuale. Se lo estrapolo, e vediamo se si può mettere in qualche programma, copia su, io c'ho sull'iPad, copia su libri, ed è un'applicazione dove mi mette le varie letture, e ecco, mi ha salvato il pdf, praticamente possiamo vedere che è appunto, è di 46 pagine, e mi sono guardata un po' queste cose sulle formule, no? Cercando di comprendere. In realtà in questo file ci sono delle, diciamo che ci sono delle parti, tipo questa, dove si citano dei documenti, tipo qui il 5, qui il 4, il documento 1 e 3, qui il documento da 1 a 4, dove probabilmente questa formula è già stata studiata, elaborata in altri documenti, sostanzialmente i documenti da 1 a 5, quindi questo è un risultato di un lavoro, e va un po' preso così, perché bisogna proseguire. E niente, la conferenza ha parlato del 13.5, il 13.5 è sostanzialmente il risultato di questo, di 432 diviso 32, e di alfa alla meno 1 per pi greco diviso quest'angolo in tre mezzi. Quindi questo risultato di 13.5 ha un suo significato, che durante la conferenza riusciamo a capirlo un po' meglio. Poi volevo dire che uno può guardarsi un po' queste formule, però poi è probabile che se non è proprio pratico, non riesce a cogliere proprio tutti i passaggi, no? Però quello che notiamo è che si parla spesso del pi greco, della sezione aurea, e quindi dal mio punto di vista bisognerebbe, per riuscire un pochino a capire di cosa stiamo parlando, almeno familiarizzare con la sezione aurea e col pi greco. Magari oggi familiarizziamo con questo tipo di cose, domani siamo pronti per accogliere uno steppettino più avanti. Ad ogni modo, la sezione aurea e il pi greco sono cose che hanno a che fare con raggi, angoli, onde, cioè si riesce poi a collegare le cose con circonferenze, la circonferenza è praticamente ci parla di onde anche, no? Quindi quando andiamo a parlare di universo mi sembra di arrivare a questi ragionamenti, ossia che poi di questa roba qui si parla di onde, di fotoni, di vibrazioni, per cui la cosa che mi è servita al meeting, ieri sono contenta di essere andata al meeting perché ho potuto fare qualche domanda al professore anche mentre era in fila per andare in bagno, c'era la fila degli uomini per andare in bagno e siamo andati tutti lì a fargli le domande, per cui abbiamo cercato di sfruttare qualsiasi momento del professore per potergli fare qualche domandina e lui gentilmente c'era chi si faceva fare l'autografo, chi si faceva fare la dedica sul libro, chi si faceva fare le foto, me ne sono fatta anch'io una e poi eccetera. Io ho colto l'occasione perché questa cosa del toroide proprio, soprattutto dopo aver fatto il video dell'altro giorno non mi scompifferava proprio nulla, cioè non riuscivo a capire a vederlo, tant'è che il professore mi ha detto che è il cervello delle donne fatto in un modo, quelli degli uomini in un altro e quindi probabilmente dice che non riesce a vederlo perché l'uomo vede le cose in un modo e la donna in un altro. Ad ogni modo dopo il meeting finalmente sono riuscita un po' a capire qualcosina e facendogli delle domande prima di tutto è venuto fuori che qui è un fotone che si muove, cioè un fotone che si muove velocemente, è uno, cioè questo è la struttura di un fotone sostanzialmente e dalla struttura del fotone poi capiamo come è fatto l'universo. Per cui questo disegno che è stendo statico va preso così com'è, per fortuna al meeting è stato proiettato un piccolo video di una sfera che si trasformava in toroide e ho capito finalmente come mai si incrociano queste due sfere perché quello che a me non mi tornava è che se un oggetto è fatto di materiale fisico come si fa a incrociare l'uno nell'altro e invece non è che è una roba fisica e loro due stanno contemporaneamente qua. praticamente va velocissimo per cui c'è c'è anche da dire praticamente insomma sono riuscita un po' a capire qualcosina che adesso disegnarlo qua nel in questo quest'altra parte in questa figura non riesco molto bene perché sennò viene fuori uno scarabocchio e niente col video di oggi volevo completare un po' il video dell'altro giorno per chi è curioso come me di capire come mai queste sfere si incrociano praticamente quindi insomma chiudiamo qua volevo far vedere le altre immagini no di questo documento poi ci sono anche le tutte le cose che riguardano il fotone e le corrispondenze con l'universo e e poi la parte che mi interessava che è quella che abbiamo letto anche l'altro giorno che è la teoria dello specchio torroidale che è che a quel punto ci interessa di più perché perché non stiamo solo analizzando a livello matematico una roba ma stiamo iniziando a capire come funziona questa coscienza dentro tro come funziona noi dentro troide quindi se tutto quello sostenuto fino ad ora è realmente virtuale allora il nostro modo di vedere e sentire percepire l'inverso deve seguire le regole della geometria del torodale noi in altre parole all'interno del toroide così come esso è in questo istante quindi come esso in questo istante cioè che non siamo ancora integrati diciamo totalmente ossia che lo sezioniamo e stiamo in questa fase qua perché mi sembra di aver capito che il toroide può stare in una fase così perché la ciambella c'è al buco e quindi se lo sezioniamo vediamo queste sfere separate però c'è un momento che c'è un momento che questo buco piano 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 si chiude si chiude si chiude si chiude e e chiudendosi le due sfere stanno così poi c'è un momento in cui si chiude queste si si sovrappongono si sovrappongono si sovrappongono così e praticamente questo buco non è più un buco ma è una roba al contrario c'è questa si crea questa roba qui sostanzialmente no e e poi dopo e fino a che diventa una sfera sola c'è questi due si sfovrappongono e quindi diventa una sfera sola questa cosa fino a ieri non mi era assolutamente chiara ora si sperando di aver capito anche adesso perché magari poi ci viene fuori qualcos'altro e quindi cosa dicevo che il nostro modo di vedere sentire percepire l'universo deve seguire regole della geometria toroidale noi in altre parole all'interno del toroide così commesso in questo istante con il valore di pi greco pare a 3,14 e la sezione aria pari a 1,61 quindi quando il momento del toroide che si sta chiudendo o che si sta allargando sta così è quel momento così che il buco si è già chiuso ma addirittura si stanno incrociando le due cose questo è il momento in cui noi all'interno questo è l'istante che questa roba qui ha valore pi greco è di 3,14 e sezione aria che è di 1,61 percepiamo il nostro esterno come un toroide visto dall'interno quindi noi lo percepiamo visto dall'interno e ora non voglio disegnare qua magari ve lo leggo da una parte perché se no si fa confusione cioè dopo tutti i calcoli, dopo tutte le cose bisogna poi piano piano arrivare a capire perché ci stiamo studiando sto toroide perché se no non ha senso no? e quindi possiamo aprirci file questo è un file dove ho fatto qualche prova di toroide e quindi vediamo vediamo, vediamo, vediamo questo lo levo e inizio con questo file a fare qualcosa di nuovo allora, quindi se seguiamo il discorso praticamente io cosa volevo dire? cioè questo meeting che c'è stato non era possibile proiettare, fare video, cose al meeting quindi io per correttezza cioè questa è la parte dell'evento che mi interessava qui ci sarebbe anche l'audio da mettere ma io non lo metto perché se ci penseranno loro a proiettare tutto il meeting lasciamoli fare però a noi continuiamo a studiare quindi non è che ci possiamo aspettare un mese o due perché loro hanno da fare la loro cosa di privacy per il discorso di essere solo loro avere l'esclusiva e tutto allora, a noi ci interessa sta roba qui quindi dimentichiamoci del mio cioè del fatto, del coso a noi ci interessa questa roba qui perché io volevo veramente parlare di sto toroide e finalmente questa cosa ci fa capire un po' come funziona il sto toroide, no? che poi probabilmente essendo un fotone che gira veloce eccetera questo è una roba fatta in 3D con i limiti del programma 3D o comunque di quello che può rappresentare, no? perché qui sembra che è un nulla hop che passa intorno a sta ciambella ecco, vediamo si vede qua che gira la sfera poi essendo che si allarga la sfera a un certo noi non vediamo che finisce ecco, questo è il fine del coso lo chiudo perché non voglio fare altri collegamenti con i video eccetera allora, a noi ci interessa parlare di sto toroide quindi non ce ne frega di parlare del meeting lasciamo che loro proiettino con la loro privacy la loro esclusiva, il video eccetera allora, prendiamoci un asse allora, io non è che voglio spiegare il toroide specifico perché se no ci si crea un fraintendimento io mi sto studiando il lavoro del professor Corrado Malanga quindi magari vi metto più confusione in testa quindi questa, cioè il registro i miei studi perché mi piace avere una traccia di quello che studio che così poi dopo vedo cosa sbaglio cosa metto cosa coso cosa diciamo l'evoluzione mi serve parlare al video è un modo per specchiarmi riguardo alla cosa che ho capito che credo di aver capito per cui prendetela con le pinze come dico sempre se voi magari avete capito meglio come funziona sto toroide e io lo sto dicendo in un modo impreciso ovviamente non mi date retta fate il vostro percorso perché non ha senso ecco seguire qualcosa che già si travede che non è preciso però ecco io non sto insegnando il toroide io sto condividendo una cosa perché mi fa piacere esternarla perché esternandola riesco a imparare meglio quindi è una cosa che faccio principalmente per me e poi perché per parlare cioè per condividere con chi gli piace approfondire queste cose quindi abbiamo visto da quel fantastico video che il toroide allora facciamo partiamo da un pochino più in alto così ci abbiamo più spazio allora praticamente io volevo correggere e completare un po' meglio il video che avevo postato l'altro giorno sul discorso del toroide perché c'era un po' di confusione che ho che ho un po' risolto leggendo semplicemente il testo del professore dicendo ok si sovrappongono ma prendiamola per buona che si sovrappongono però non ero riuscita a vedermi sto toroide nella testa cioè cercavo di sovrapporli ma non riuscivo a vederli bene ora invece sì perché finalmente la situazione è un pochino più chiara allora quindi abbiamo compreso che se partiamo dai discorsi della dispensa si parte col dire che il toroide è una ciambella se il toroide è una ciambella e noi abbiamo quest'asse nel mezzo se mettiamo un piano qui tagliamo sta ciambella un bel bombolone con lo zucchero sopra il piano che taglia la ciambella sostanzialmente cosa fa? mettiamo un piano qui che taglia una lametta noi vedremo sezionate due sfere ok? due sfere qui e qui sezionate perché siccome qui c'è il buco che fa così la ciambella se lo vogliamo fare un po' tridimensionale no? sono sezionate quindi sono due sfere separate e non è questo il nostro caso non è questo il momento che ci interessa a noi di quando c'è il pi greco e la sezione aurea a noi questo momento qui non ci interessa perché non è quello là quando è che c'è il momento e quello là? quando intanto c'è vediamo che il buco si restringe quindi vedremo che se noi sezioniamo avremo sempre cioè praticamente ci ritroviamo se il buco si è ristretto vuol dire che le sfere si sono allargate proporzionalmente fra di loro e si sono leggermente allargate rispetto a questo perché stanno chiudendo un cerchio stanno chiudendo il buco no? per cui il buco è più stretto e ci abbiamo la ciambella così sostanzialmente no? vista poi questo buco diventa così cioè praticamente abbiamo un bombolone io l'ho chiamato bombolone ripieno perché il bombolone ripieno perché il bombolone ripieno non è più una ciambella ma è una roba dove ci infiliamo una bella bomba di panna di crema dentro bombolone ripieno vuol dire che te questo buco se fai la sezione siccome si è chiuso abbiamo le sfere ancora un po' più larghe che si tengono in questo punto qui ma non è ancora il momento che ci interessa perché questo non è il momento in cui dà valori di pi greco e di sezione aurea ok? cioè praticamente qui non c'è più una curva così c'è un oggetto intero un po' che si incurva un po' qua così ma è attaccato poi c'è il momento che questa si incrocia qua e questa si incrocia qua cioè che la sfera si allarga ancora di più e tutto questo è in proporzione con la superficie perché probabilmente la sfera la superficie cambia perché la sfera le sfere si ingrandiscono ma non è detto che qui dietro sia più largo ad ogni modo queste si diciamo che possono rimanere anche della stessa dimensione di questo però si avvicinano fra di loro cioè praticamente iniziano a girare intorno a quest'asse qui un punto di questa circonferenza quindi i movimenti sono che qui cioè i movimenti in questo questo caso qua sono che le due circonferenze si uniscono quindi lasciamo perdere quello che ho detto che le sfere si ingrandiscono non c'è bisogno che si ingrandiscano perché possono essere della stessa dimensione ma avvicinarsi ok con la cosa nel centro qua quando si avvicinano ancora di più che è quello che io non capivo perché dicevo ma se io mi mangio un bombolone alla crema o una ciambella non ho mai visto i due lati della ciambella entrare l'uno dentro l'altro perché infatti non si sta parlando di materia ma si sta parlando di fotoni si sta parlando di un fotone che gira velocemente e va dove gli pare sostanzialmente quindi si possono anche incrociare quindi a questo punto questi due si incrociano si incrociano cioè al momento in cui quando incrociano l'asse fra di loro sempre a una solita distanza fra di loro così si incrociano e hanno valore pi greco e sezione aurea quello è il momento in cui ci troviamo noi nella nostra situazione dove dobbiamo ancora comprendere qualcosina allora questo lo sposto un po' più su perché sennò poi non c'entra più niente e volevo dire anche questa cosa che nel disegno che abbiamo visto prima questa parte centrale questo asse blu centrale questo asse qui che ci siamo disegnati centrale come leggevamo è dato da praticamente l'incrocio degli assi perché va questa va vista un po' così dove ogni sfera ha il suo piano cartesiano ok praticamente questa sfera fa così e si incrocia qua e sta praticamente qui dobbiamo vederci un asse cartesiano e questo praticamente è il risultato dei vettori dei vettori che stanno nella linea del tempo e dello spazio ok qui abbiamo tempo e spazio dove questi però sono gli opposti quindi c'è qui l'antispazio e qui l'antitempo allora cosa succede che anche qui c'è questa sfera che magari la disegniamo di un altro colore perché se no non si capisce qui c'è questa sfera ok che siamo nel momento in cui queste due sfere vediamo se mi riesce fare un'encociata sono siamo nel momento in cui le due sfere uguali io non le ho disegnate ugualissime ma per un discorso che le sto abbozzando le due sfere a un certo punto si incontrano e creano un valore come diceva di pi greco in sezione aurea ok e noi a noi ci interessa questa zona qui sostanzialmente perché qui stiamo parlando del toroide questo è un toroide dove i due cosi dove la ciambella si sta incrociando dentro se stessa sostanzialmente perché poi il risultato sarà che questa sfera si sposta in qua questa si sposta in qua perché è sempre la stessa che gira questa si sposta in qua e praticamente ci troveremo che ci troveremo che questa una si è spostata in qua quest'altra si è spostata in qua e avremo come risultato che questa fa così che poi alla fine si una combacerà sull'altra perché queste stanno girando intorno a questo asse mentre si avvicinano fra di loro si avvicinano tenendosi attaccate a quest'asse quindi avvicinandosi praticamente da che erano così si sono ritrovate che avvicinandosi si sono sovrapposte e nel video che vi ho fatto vedere si capisce un po' meglio solo che il video che abbiamo visto nel video che abbiamo visto prima si nota che la sfera quando gira la sfera parte che è una ciambella quindi vediamo che nel video la parte che è una sfera quindi fa il contrario e ti fa vedere che girando se lo andiamo un attimo a rivedere un secondo praticamente ecco questo è il momento in cui si allargano e quindi vediamo che questo cerchietto giallo siccome gira lentamente noi nel momento in cui gira per esempio ora vedete si sta allargando il cerchietto quando si allarga si è già creato quasi un buco quindi noi non riusciamo a vedere in questo video questa zona qui che ora vi faccio vedere ecco questa perché lui gira si sta allargando e noi non lo vediamo allora se noi ci prendiamo questa questa foto ok questa immagine ci accorgiamo che l'asse allora l'asse è questo no qui abbiamo l'asse ok se vogliamo ragionare su questa cosa abbiamo l'asse ok noi abbiamo quest'asse e stiamo vedendo che questa circonferenza di color giallino giallino diciamo verdolino giallino questa circonferenza che gira vediamo se che gira e il buco si restringe praticamente siccome stiamo stiamo ancora questa cosa gira qua ma nello stesso tempo abbiamo visto che la sfera si restringe o si abbiamo visto abbiamo visto che la sfera si allarga quindi mentre si allarga c'è una rotazione quindi avvengono due cose per quello che nella testa non riuscivo a capire bene che cosa stesse succedendo perché mentre si allarga praticamente questo buco si allarga quindi mentre si allarga e gira questa in base al programmino del 3d dove gira questa noi possiamo vederla se va lentamente e la sfera si è già allargata noi vediamo solo una roba così però non riusciamo a capire come stava quando il buco era ancora più stretto ok e lo vediamo adesso quando il buco era più stretto perché mi sono catturata al momento in cui il buco era più stretto ok questo è il nostro asse per vederlo meglio bisogna fare un'altra circonferenza perché lui se gira qua noi non riusciamo a vederlo qua perché sta girando qua allora io cosa faccio mi faccio la circonferenza la cosa come se lui avesse girato già qui ok ed ecco che ci vediamo che cosa c'è qua dentro praticamente lui gira 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 ma essendo questa zona qui più stretta rispetto alla circonferenza la circonferenza si sovrappone cioè lei fa così si sovrappone si crea questa ghiandolina nel mezzo ossia sta roba così perché lei sta girando intorno a questo asse e girando girando si creano tante tante robe così 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 e noi vediamo la sfera completa il toroide il ciambellone che in questo caso non è col buco ma le sfere si sono incrociate fra di loro per me questo ora è più chiaro perché prima non capivo perché in una ciambella dove c'è un buco se tu fai una sezione qui c'hai un cerchietto e qui un cerchietto la ciambella sezionata è così e io non capivo perché venivano disegnate incrociate vengono disegnate incrociate perché questo questo buco piano 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 si restringe si restringe e queste due robe iniziano a incrociarsi fra di loro e girano sempre intorno a quest'asse quindi girano c'è un momento in cui girano dove si incrociano qua e girano intorno all'asse e girano così creando questa forma del toroide che sembra un po' una zucca poi a un certo punto questa zona qui sostanzialmente si allarga c'è il buco il buco si è restretto a un certo punto questo buco qua ma poi l'incrocio della mandorla si è allargato questo si allarga quando prendiamo consapevolezza ma non è che si è dilata semplicemente la circonferenza praticamente se questa sfera è una sfera che gira quindi questa sfera sta girando intorno a quest'asse perché il buco abbiamo detto che mentre prima la sfera stava qua e quindi ovviamente qua c'è un buco e lei gira piano pianino questo buco si restringe quindi la sfera fa così è qua poi è qua e mentre lei sta girando si sposta e mentre gira si sposta e mentre gira si sposta fino a combaciare con la sfera di là dall'altra parte ok che poi la sfera dall'altra parte mi sembra di aver capito che è sempre se stessa perché è un fotone che gira velocemente quindi praticamente a un certo punto diventa una sfera unica e quello è il momento in cui abbiamo compreso e abbiamo levato gli specchi e gli specchi sono questa mandorlina che sta nel mezzo se ho capito bene prendetelo con le pinze perché io me la sto studiando sta roba e quindi non è detto che abbia capito bene ad ogni modo ci siamo catturati quella foto dove c'è il testo che mi interessava no? l'avevamo vista prima che è questo questo testo qua ce lo mettiamo da una parte ce lo mettiamo da una parte e questo testo dice vediamo un po' se ce lo cancelliamo perché tanto ci dà noia allora vediamo allora dice noi ci leggiamo questo no? quindi magari questo si cancella perché non ci interessa ci interessa e non ci interessa allora praticamente cosa dice la teoria dello specchio toroidale se tutto quello sostenuto fino ad ora è realmente virtuale allora il nostro modo di vedere sentire percepire l'universo deve seguire le regole della geometria toroidale noi in altre parole all'interno del toroide così come esso è in questo istante cioè col valore di pi greco pari a 3,14 con la sezione aurea pari a 1,61 percepiamo il nostro esterno come un toroide visto dall'interno come se noi fossimo collocati nel tubo del toroide e guardassimo verso il centro quindi noi ci disegniamo il nostro bel toroide il nostro asse centrale abbiamo abbiamo detto che questa sfera sostanzialmente si basa su questi assi cartesiani e a un certo punto questa sfera si incrocia con questi punti qui che ora io non li ho fatti vediamo un po' se mi riesce a fare così vabbè è venuta un po' torta ma insomma facciamo distinguiamo gli assi con un altro colore così almeno viene un po' più chiaro praticamente questi due si incrociano qua si incrociano qua ok quindi se si incrociano qua vuol dire che abbiamo visto il file che è questo qui ecco praticamente l'incrocio sta qua gli assi sono questi ok sono questi qui questo si cancella un goccino perché se no non si fa confusione quindi abbiamo questa sfera che gira qua e questa che si incrocia qua ovviamente qui è un po' più a ciambellone un po' più largo allora cosa succede che noi stiamo dentro sto toroide quindi noi osserviamo le cose vediamo di usare un altro colore ci leviamo sto schema perché se no insomma non ci si apisce per nulla e e ci prendiamo un altro colorino perché veramente se no dopo allora se noi stiamo dentro il toroide praticamente osserviamo lo specchio ok che si proietta in questa in questa mandorlina cioè le robe della nostra vita io faccio un omino ma può essere di tutto problemi cose qui ci può stare di tutto no a specchio quindi noi pensiamo di vedere il mondo qui per noi questo è il mondo lo stiamo vedendo da fuori perché per noi questo è un fuori ma in realtà noi stiamo dentro stiamo dentro il toroide se ho capito bene perdonatemi se lo ripeto però è importante perché se io non ci ho capito una mazza bisogna che che lo che poi insomma prima o poi se capisco che non ho capito rifarò un altro video e ve lo dico però per ora mi sembra di aver capito sta cosa che come si stava leggendo percepiamo il nostro esterno come un toroide visto dall'interno come se noi fossimo collocati nel tubo del toroide e guardassimo verso il centro tutta la virtualità ci apparirebbe cioè proiettata su uno schermo virtuale di forma torroidale dove inconsapevolmente le immagini di ciò che avremmo di fronte ci apparirebbero ai lati come due sezioni torroidali e dal centro vedremo una colonna a forma di mandorla praticamente su questa superficie come uno specchio vedremo ciò che crediamo di essere l'esterno di noi mentre sarebbe l'immagine distorta di noi stessi mano a mano che la consapevolezza aumenta la colonna centrale si assottiglia e noi ci troveremo al centro dell'ex toroide tornato ad essere sfera ciò significherebbe che qualsiasi evento collocato nello spazio tempo l'energia non ci sarebbe di essere equilibrati allora mano a mano che la consapevolezza aumenta la colonna centrale si sottiglia e noi ci troveremo al centro dell'ex toroide tornato ad essere sfera ciò significherebbe che avremmo consapevolezza di essere il tutto ma soprattutto di essere equidistanti da qualsiasi evento collocato nello spazio tempo energia noi non ci sarebbe la percezione di un oggetto più vicino di un altro nello spazio o nel tempo perché tutto sarebbe percepito come non locale ma prima di giungere a quel livello di consapevolezza dovremmo ammettere di passare attraverso un periodo di percezione distorta avere la consapevolezza della misura della distorsione ci aiuterebbe a comprendere gli errori distorsioni della nostra attuale percezione e velocirezzerebbe il processo di acquisizione di consapevolezza ad ogni modo il risultato finale sostanzialmente che queste due sfere si avvicinano e che quello che a noi ci sembrava io per comodità ho messo questo mino di lato perché lui dice che ci troviamo dentro il toroide davanti allora io posso disegnarlo così se vogliamo provare a seguire a metterlo qui nel mezzo siamo dentro il toroide stiamo vedendo staghiandola dove sono incrociate le sfere attualmente perché non hanno raggiunto questo stato e noi stiamo osservando il centro di questa roba dove sostanzialmente vediamo noi stessi con i nostri problemi perché ci osserviamo stiamo dentro di noi ma osserviamo i nostri problemi le nostre cose che ci succedono nello stesso tempo osserviamo il mondo quindi questa è un'osservazione un po' delle robe che succedono ci stanno dei problemi e noi li stiamo osservando pensando di vedere da fuori nel momento in cui queste sfere piano 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 diventano una sola noi non staremmo più a vedere in un angolo una parte della sfera perché qui quando stiamo qua il toroide vediamo cioè questo toroide siccome gira in qua e gira in qua sostanzialmente abbiamo che si capisce meglio quando è separato quando c'è il buco se noi stiamo osservando da dentro il toroide è più chiaro dire guarda io osservo qui questa è la mia questo è il mio asse del tempo no tempo questo è il mio asse dell'energia cosa vuol dire che se io guardo di qui c'è una cosa che gira per cui qui è nascosta l'asse dell'energia e così il tempo il tempo qui è nascosto questo ce lo dice in un'altra parte della dispensa quindi anche quando queste due sono incrociate stiamo sempre parlando di un aggeggio che gira per cui facciamo un'altra pagina perché sennò c'è troppa confusione praticamente se noi stiamo qua abbiamo detto che c'è quest'asse del tempo se noi siamo qua abbiamo detto che questo è l'asse dell'energia questo è l'asse del tempo che a livello torridale gira e quindi anche l'asse dell'energia se è una ciambella vuol dire che gira e poi c'è l'asse dello spazio che è tondino anche questo allora cosa succede che quando andiamo all'asse dell'energia gira in qua e gira in qua l'asse del tempo se proviamo a vederlo qua dietro è confuso e qua dietro è confuso la nostra immagine è un po' distorta perché qui è come avere uno specchio di quelli del circo ok se la vogliamo chiamare un po' così cioè le cose le vediamo con degli aspetti che riguardano la curvatura che è dettata dal pi greco e dalla cosa aurea ok per lo stato in cui ci troviamo a livello energetico quindi cosa succede che finché stiamo in questo stato qui ci sarà un fuori dove noi crediamo di stare fuori e un dentro che è questa roba qua ma quando noi queste due sfere si incroceranno fra di loro perché abbiamo eliminato i problemini che ci abbiamo qua dentro piano 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 queste due cose si incrociano e noi ci troveremo come dice nel mezzo della sfera ad osservare tutto con lo stesso raggio equidistante cioè tutto ciò che sarà davanti a noi sarà visibile da tutti i punti e avrà un'unica informazione che è il raggio quindi ci sarà un'osservazione se noi ci vediamo dall'alto questa sfera la vediamo dall'alto praticamente abbiamo la situazione chiara da tutti i punti di vista cioè e qui anche l'osservazione di un problema un problema lo vedremo a 360 gradi se così si può dire ma il problema tornerà alla sua armonia perché qui il raggio è sempre lo stesso il problema sta qui perché si condensa in una situazione disarmonica ma nel momento in cui le sfere si uniscono e qui praticamente ogni raggio rappresenta un'unica soluzione che è la stessa tutto rappresenterà il valore di unità quindi tutto acquisterà un aspetto di unità che si potrebbe rappresentare come il raggio della circonferenza io non so se questo è diventato un video un po' più chiaro del precedente ad ogni modo con questo vi saluto e vi lascio a una piccola registrazione che ho fatto mentre ero al meeting con questo vi saluto e alla prossima ciao un esercito di mille persone per fare una battaglia abbiamo visto che non funziona funzionano mille eserciti di una persona sola come piranha il nemico te lo mangia ecco perché ognuno gli acquisirà consapevolezza e coscienza di sé invece se solo il generale ha coscienza di quello che fa e l'esercito dice quello che fa fa quello che dice il comandante la battaglia non la vince il Napoleone ha cominciato a perdere la battaglia quando le persone non avevano più voglia di lavorare perché l'esercito di Napoleone è un esercito di contadini che Napoleone aveva requisito dicendo che acquisteremo il potere e poi ricominciamo altrimenti non facciamo la tavola rotonda al suo esercito grazie allora sì è mai